Grazie, prego. Buon pomeriggio a tutti, intanto ringrazio Valentino Nizio, la Fondazione Diacultura e lo Stadio di Domiziano per avermi dato la possibilità di essere qui e di aver avuto il mio libro in allestimento su in bibliarchè. La presentazione credo sia doverosa, soprattutto dopo un parterre di specialisti che si sono susseguiti in questi giorni. Mi chiamo Federica Maria Riso, sono laureata all'Università di Ferrara in archeologia, ho intrapreso il percorso di specializzazione a Bologna e attualmente sono dottoranda in archeologia funeraria presso l'Università di Modena. Il libro nasce dal progetto di tesi della magistrale e dalla volontà di voler condividere questa mia passione, forse un po' strana, bizzarra per i morti, la morte per l'archologia funeraria in particolare romana, e voler appunto creare un qualcosa che fosse sì scientifico ma anche fruibile. So che non è semplice, non è stato semplice, non è neanche semplice farsi poi accettare dalle case editrici un po' perché non si è conosciutissimi e un po' perché si sa già di partenza che non si creerà un best seller, ma ci si prova insomma a rendere fruibile anche argomenti scientifici, in questo caso archeologici. Per fare questo ho deciso di creare un libro che fosse di dimensioni modeste, normale, ecco non un tomo, ecco come poteva essere la tesi, quindi non ho preso la tesi, tu cura e l'ho pubblicata perché sennò sarebbe diventata una cosa effettivamente molto imponente, e ho cercato anche di fare un parallelismo con quella che è l'attualità e quelle che sono le tradizioni che o abbiamo avuto nel nostro paese per quanto riguarda il lutto, quindi la morte, oppure che sono attualmente insomma in uso in altri paesi, in altre culture. Perché la morte? Come scrivo nel libro, come inizio poi il mio libro, non è un argomento semplice, è un argomento di cui non è sempre bene parlare, non si sa mai come approcciarsi, non si sa cosa dire, se si urta la sensibilità di qualcuno, quindi bisogna sempre andare un po' in punta di piedi. Credo però, e non dico niente di nuovo, che la vita e la morte siano i due momenti appunto della vita di un uomo più importanti. E proprio in questi momenti si capiscono tante cose, quindi il background culturale, le nostre tradizioni, le nostre credenze, tutto ciò che la società ci impone e quindi penso che sia proprio attraverso questi momenti che si riesca a capire di più sia appunto dei popoli che vivono attualmente, quindi anche i popoli indigeni, ho ascoltato, ho partecipato al convegno e stranamente forse sono stata più interessata ai contributi di antropologia che non quelli di archeologia, perché trovavo tantissimi parallelismi e tanti confronti con la mia ricerca e con appunto il popolo romano. Quindi è proprio attraverso lo studio delle necropoli che si capisce molto di una popolazione che andiamo a studiare, quindi quali erano le credenze religiose, come si strutturava la società, qual era l'alimentazione addirittura andremo a vedere degli uomini, se vi erano differenze sociali e tutti questi elementi che ci aiutano proprio a ben comprendere la popolazione che andiamo a studiare. Tra l'altro siamo anche attuali perché insomma in periodo di Expo si parla di cibo, quindi non era mia intenzione sicuramente un anno e mezzo fa, però così è stato. Dicevo appunto, ho cercato di creare un parallelismo con quelle che erano le tradizioni presenti in Italia o anche in altre parti del mondo, in Europa e anche fuori dall'Europa, con quello che era un momento fondamentale del lutto a Roma, il banchetto funerario. I romani erano soliti mangiare durante i funerali e mangiare proprio con i morti, quindi condividevano con i loro cari defunti i pasti. Questo perché? Perché permetteva di rinsaldare da una parte i rapporti, che sappiamo nel momento di lutto insomma si disgregano, tutte le nostre certezze crollano e in particolare per i romani la morte portava molta negatività, quindi la famiglia colpita dal lutto veniva considerata funesta. Proprio attraverso, come andremo a vedere, una serie di riti, di cerimoniali e con il cibo protagonista questo faceva sì che si potesse ritornare dopo nove giorni alla normalità. Ecco, io farei giusto un accenno a quello che succedeva in Italia, a quello che succede insomma ancora, come vi dicevo, ad esempio in Sardegna la sera precedente il seppellimento durante la veglia gli uomini deponevano il morto su un tavolo in un angolo della stanza e lo coprivano con un lenzuolo. Poi mangiavano pane e miele lasciando al defunto una parte della cena e questo è quello che, come andremo a vedere, succedeva per il popolo romano. O ancora, per la Valtellina e la Valcamonica si ricorda fino al 1930 il consumo di una zuppa di riso cotto nel latte. In alcuni casi questa vivanda veniva poi mangiata durante il tragitto verso il seppellimento sulla bara stessa. In Emilia, poi ognuno ha i suoi cibi tradizionali, si mangiavano le tagliatelle, io sono emiliane d'adozione, dopo il funerale. E per portarci fuori dall'Italia, in alcuni villaggi della Svizzera, ancora nella seconda metà dell'Ottocento si segnala una veglia particolare. I partecipanti ricevevano dalla famiglia mosto e vino a volontà e vedremo che anche il vino sarà un elemento ricorrente nel banchetto funebre appunto romano e si assicurava così al morto il riposo nella tomba. In Bulgaria il funerale terminava con l'allestimento di una tavola presso la tomba o nell'altro della chiesa. Concludo poi con la cultura rom attualmente ancora presente. Il primo pasto fatto dopo la morte si chiama pomana. Si tratta di un banchetto molto abbondante come segno di pace e felicità. Se poi pensiamo alla cultura americana, io personalmente non sono mai stata in America e non ho partecipato a un funerale americano, però sicuramente avremmo visto film, il funeral parties, ci sono delle vere e proprie agenzie funebri che organizzano dei parties, dei banchetti che vengono svolti durante il funerale. Ora questo non è l'unico parallelismo che ho trovato con la cultura funeraria, con la cultura romana, ma se ripercorriamo velocemente quello che è il rito funerario ne ritroveremo degli altri. Sappiamo infatti che alla morte di un uomo romano venivano messe delle conifere, come vi dicevo, proprio perché la famiglia veniva considerata funesta, quindi venivano poste delle conifere al di sopra della porta, proprio per segnalare questa condizione. Dopodiché il morto veniva deposto, veniva sdraiato, veniva la deposizio e poi l'unctura, cioè il defunto veniva cosparso di olio e profumi. Io ho avuto l'occasione di sentire l'intervento di Chiara Gemma Possetti durante le giornate del convegno che parlava dei bijagò. Io non ero a conoscenza di questo popolo e di questa cultura, ma la dottoressa Possetti parlava proprio dell'usanza, non solo di mangiare insieme al defunto, ma anche di cospargerlo di profumi, proprio perché l'odore, si è parlato anche molto di odore, di puzza e odore, doveva scacciare, era un altro elemento che aiutava a scacciare la morte dall'abitazione e dalla famiglia. Dopodiché avveniva la protesi, cioè il defunto era così pronto per poter essere visto dai cari, dagli amici che venivano poi a dare l'ultimo saluto e dopodiché iniziava il corteo. Il corteo aveva un elemento particolare, venivano chiamate le prefiche che in Italia non sono altro che le piagnone o chiagnitare o insomma ognuno poi le ha chiamate un po' come insomma secondo il proprio dialetto, qui vediamo un'immagine appunto di questo preso da un funerale in Italia e proprio soprattutto in Italia meridionale fino a qualche decennio fa si usava a chiamare delle signore che piangessero disperatamente il morto anche se magari non lo conoscevano neanche quindi venivano proprio pagate per fare questo mestiere. E poi sempre un altro processo del rito funerale romano era quello delle immagines maiore, cioè di posizionare le statue del volto della persona perché era molto importante per i romani che il ricordo fosse mantenuto vivo. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo una foto post morte cioè fino a tempo fa si utilizzavano, si usava prendere il morto, in questo caso abbiamo una defunta, una giovane defunta la si imbellettava un po' e la si metteva in posizione quasi da vivente, un po' imbalsamata però e si faceva la foto con il morto. Quindi penso che anche questo sia un confronto abbastanza pertinente. Come dicevo un piccolo espulso sul concetto dell'aldilà per quanto riguarda i romani, la morte era vista quindi come una rottura che i riti poi dovevano ricomporre, era una separazione quindi fisica e un distacco che era giusto porre nel confronto tra i vivi e i morti e secondo insomma una scena di pensiero che personalmente condivido ma ho avuto anche modo di dibattere proprio questo è il bello durante questo convegno di altri pensieri, comunque personalmente condivido questo cioè che vi sia una sorta di scetticismo dei romani nei confronti dell'aldilà e più un'adesione nei confronti del carpe dieme cioè il mangiare insieme, il depositare delle offerte con anche dei significati particolarmente simbolici come poi andremo a vedere, non era tanto una volontà di garantire un futuro verso l'aldilà che credo sia più una concezione nostra cattolica cristiana che sicuramente in epoca romana non c'era ma più un voler rimarcare quanto era bello essere in vita e che una volta che la vita si è spenta ecco tutto questo non ci sarà più, per cui è bene godere delle gioie terrene e poi appunto come vi dicevo l'importanza della sopravvivenza nella memoria collettiva per questo stamattina poi sono andata proprio a visitare la Domus Aurea di Nerone la cosa più brutta che potesse capitare era la damnazio memoria cioè essere cancellati e non essere più ricordati quindi cosa succedeva al popolo romano per una volta passati a miglior vita era giusto avere una giusta sepoltura e che i propri cari ufficiassero di sacra privata senza questi due elementi il defunto non poteva entrare tra i dei mani cioè quell'entità paterna e benevole che si contrapponevano ai lari che invece sarebbero poi tornati nel mondo dei vivi per disturbare in qualche modo dicevamo quindi il banchetto funebre come veniva chiamato era il silicernium subito dopo il funerale dopo nove giorni veniva svolta la cena novem dialis quindi nove giorni i parentaglia, durante i parentaglia si ritornava sulle tombe per ancora offrire cibi, corone di fiori, comunque doni dal 13 al 21 febbraio poi caristia e i lemuria il 9, 11 e 13 maggio brevemente appunto tutto ciò lo possiamo ritrovare nella struttura della necropoli perché era proprio nelle necropoli che studiando anche la topografia della necropoli si può vedere che tutto era incentrato a far sì che si frequentasse quindi che i vivi andassero a fare visita poi ai morti e dalle iscrizioni si può notare questo quindi ad esempio nel diritto di ambitus cos'era cioè il passaggio, il diritto, ovvero proprio delle vere e proprio norme consuetudinarie cioè il diritto di passaggio del titolare della tomba e dei suoi familiari ai luoghi di culto se non si voleva, ecco, si metteva una bella lastrina e diceva di qua, non si passa oppure delle disposizioni testamentarie ad esempio in questo paragrafo del testamento di Cetrania Severina che proviene da Sarsina vediamo appunto che la defunta, prima di essere morta aveva deciso che venissero date ogni anno il 12 giugno il giorno del compiano venga distribuito dell'olio a ciascuno di voi e i proventi della rendita di 26 terzi vengano impiegati per adempiere al mio culto funerario quindi ci si assicurava prima di morire che insomma questa cosa poi venisse fatta o ancora degli apprestamenti architettonici abbiamo ad esempio delle, possiamo trovare delle cisterne come nella necropoli di classe o a Pianabella io ho avuto modo in questi giorni, ho fatto tutto un tour per Roma anche di visitare Ostia per la preparazione dei pasti, delle cucine in questo caso, in questa iscrizione da Altinum viene indicata una cucina particolare una cucina di forma triangolare ad uso comune o ancora per il consumo quindi delle vere e proprie mense da rimini delle panchine per poter sostare insieme o ecco vediamo qui delle nicchie tombali le nicchie tombali in particolari ritrovate in alcune necropoli servivano per deporre delle offerte vegetali quindi spesso come in questo caso molto particolare a Garlate si rinvengono i defunti inumati con la mano all'interno della fossa come quasi apprendere quello che vi fosse dentro in questo caso vi era un bicchiere delle ossa animali e un urla con altri ossicini animali infine la cosa più evidente ho avuto modo di visitare la necropoli di Via Triunfalis di sotto dei musei vaticani che insomma per un archeologo funerario è il non plus ultra tanti condotti fittili o anfore, tubi in piombo questo permetteva di versare e calare gli alimenti all'interno dell'urna o della fossa dove era stato poi deposto il defunto quelli più comuni naturalmente i condotti fittili vediamo qui un esempio da Porta Nocera a Pompei oppure le anfore segate che potevano essere utilizzate anche solo come segnacolo ancora in casi particolarmente fortunati e di anche ricchezza probabilmente economica tubi in piombo dalla via Flaminia di Rimini e i vasi a fruttera anche qui ho visto che qualcuno c'è anche in Via Triunfalis un altro elemento che venissero ufficiati questi cerimoniali è sicuramente la presenza di materiale ceramico sparso sul piano di Calpestio su pellettili da mensa in generale lucerne e balsamari oppure la presenza di alimenti spendo proprio giusto due parole attualmente sto seguendo appunto un progetto sulle necropoli del Modenese per il quale viene flottata la terra del piano di Calpestio poi vista il microscopio cerchiamo di riscontrare se appunto vi sono state delle offerte alimentari attualmente con anche un contributo che poi ho mandato per il convegno che si può trovare su Accademia.edu per quanto riguarda la necropoli del Novi Sad a Modena è stata riscontrata la presenza di fave, datteri, fico e altri alimenti ma questi in particolare che sono particolarmente significativi e simbolici per quanto riguarda il rituale funerario la vite anche molto molto rappresentata è importante per quanto riguarda la pratica simposiaca ecco questo collegamento come dicevo all'inizio con i piaceri della vita con l'Ozium è attestato sia nelle raffigurazioni iconografiche ma sia appunto nelle testimonianze archeobotaniche ad esempio infine potevano essere anche così offerti dei fiori come facciamo attualmente durante i Rosalia e i Dies Viole proprio delle festività che come ci tramanda Ovidio dai suoi fasti erano ricorrenti e anche qui dalla necropoli di classe abbiamo un bell'esempio di offerte floreale oppure da un'iscrizione in cui viene detta vivos navi ut ex reddito ero larges rose quindi troviamo ancora una volta delle attestazioni che ci danno il riscontro di questa nostra ipotesi io vi ringrazio per l'attenzione so che c'è la rievocazione subito dopo di me e grazie mille e a presto grazie mille e a presto